buongiorno dopo che il concerto ha preso il suo tuffè e tardi andiamo a vedere il Wat Pak Nam Pasi è un buddha d'oro gigantesco ci sono ovviamente altri templi da vedere e io non l'avevo mai visto ho visto nella mappa mentre guardavo dove andare ho visto questo buddha gigante perché non andrei a guardarlo e quindi lo vedrete con noi tra poco si è giallo si è diventando tailandese 10 baht che sarebbe 3 centesimi pochissimo 3 centesimi no allora 100 baht sono 2 euro e 50 quindi 20 centesimi 25 centesimi ok una informazione in più per voi vedrete questi templi prima di andare al buddha al buddha dorato questo qua gigante che si vede dall'altra sfonda e dovete andare con una barchetta molto probabilmente ve lo farò ovviamente sapere tra pochi minuti però questo eccolo vedi noi dobbiamo andare a quel buddha lì sulla sinistra che si vede si intravede la testa bellissimo penso che siano pure nuovi comunque questi templi questo è in ristrutturazione o in costruzione addirittura ecco qua questa stradina dovete prendere che è praticamente subito all'entrata a sinistra a sinistra della prima statua del buddha eccolo qua questo buddha ha le narici aperte è un po' inquietante però vabbè guardate che vista che panorama e non stavo parlando del buddha va bene raga proviamo questa red bull thailandese M150 20 baht vediamo so refresh no buona sa tipo di fragola si tipo di fragola lampone buona 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 20 baht cioè praticamente 50 centesimi e la red bull ovviamente è molto di più eccoci qua guardate la maestrosità del buddha wow qua c'è un obelisco non lo so non lo so una torre ci sono ci sono ci sono questo è un po' Questa qua sarà una roccia in Giada, la pietra preziosa del Buddha, credo. Eccoci qua, adesso siamo fuori, sono al penultimo piano, no vabbè non credo, sono comunque a un piano elevato della torre che c'è dietro al Buddha. Adesso faccio un giretto, ma chissà mi comprerò il kit fotografo dello Xiaomi in 14 Ultra, ma vediamo, devo spendere altri soldi. Comunque guardate che pista, wow, bellissimo. Andiamo a vederlo da un'altra prospettiva. Ora cercherò di andare comunque un po' più in fondo, sempre di fronte al Buddha, per vedere se c'è un'altra prospettiva di fronte al Buddha. Ok, un'angurietta per rinfrescarsi, ladies and gentlemen. Non voglio riprendere la signora perché chissà non vuole essere ripresa. 20 baht ragazzi, 50 centesimi. di fronte al Buddha. Ok, la signora mi ha voluto regalare un po' di mango. For free? Yeah? No, no, no. Yeah? Wow! Kapunka! Il signora mi ha sentito. Comunque mi ha regalato, non lo so perché, mi sono stato simpatico che forse gli ho detto... Ah, ok, forse perché poi ti va a perdere, vabbè ma è fresca comunque. Ok, quest'altra prospettiva del Buddha, guardate, si vede anche un poco la testolina dell'altro Buddha, quello con le narici un po' aperte, che per me era un po' inquietante, ti guardava con quelle narici. guardate! Wow! Wow! Eccolo qua! E là sotto c'è Consul. Wow! Guardate che zoom ottico dello Xiaomi 14 Ultra. Non sono sponsorizzato, quindi... se tu vuoi Xiaomi, se tu puoi sponsoarmi Xiaomi, non mi preoccupare, eh? Per tutto. Che vista! Abbiamo dovuto pagare 20 Baht a testa, vi daranno questi ticket che poi vi daranno sconticino al bar che c'è qui accanto. Ok, questa è la vista da dentro al bar. Adesso vediamo se facendo lo zoom sgrana o no. Non credo, non dovrebbe. Infatti si vede perfetto. Wow, che spettacolo! Benvenuti a Chinatown! Ora mangeremo qualche cosa di street food, ovviamente. qui ovviamente via il capitale dello street food, Chinatown. ci accompagnerete in questa nuova zona di Bangkok. non lo so che c'erano. RI e adesso attraversare attraversare senza semaforo l'abbiamo fatta Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.